Perdere peso Come accelerare il metabolismo con il caffè e la cannella Ecco un metodo scientificamente provato per perdere peso bevendo caffè La perdita di peso non è sempre piacevole, soprattutto quando si ha molto peso da eliminare Purtroppo i metodi che portano a questi risultati sono spesso pericolosi per la salute e non garantiscono effetti duraturi Tuttavia è possibile perdere peso in modo ragionevole, gustando i pasti senza frustrazioni La scienza ha dimostrato che il consumo di caffè con cannella ogni mattina Accelera il metabolismo e favorisce la perdita di peso Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti Ha dimostrato che il consumo di caffeina favorisce la riduzione del grasso corporeo La cannella, secondo uno studio nel centro di ricerca sull'infiammazione di Hong Kong in Cina Ridurrebbe il peso corporeo ed è molto naturale e non tossico per ridurre l'obesità Inoltre la cannella è ricca di antiossidanti e fibre alimentari Questi ultimi aumenterebbero la sensazione di sazietà secondo uno studio Inoltre la cannella attiverebbe la termogenesi che può combattere l'obesità come dimostrato in questo altro studio Altri benefici della cannella La cannella quindi agisce con Antiossidante, antimicrobico, antinfiammatorio e antidiabetico Altri benefici del caffè È stato dimostrato attraverso uno studio che il consumo di caffè ridurrebbe i fattori di rischio per il diabete di tipo 2 e le malattie del fegato Questa tazza di caffè alla cannella non solo ti farà perdere i chili in più ma ti darà anche una dose di energia che ti aiuterà a fare tutto il necessario per trascorrere una buona giornata Preparazione della bevanda Ingredienti Acqua bollente Due cucchiaini di caffè macinato E mezzo cucchiaino di cannella Prepara la tua tazza di caffè come al solito Aggiungendo però mezzo cucchiaino di cannella Mescola tutto Quindi goditi il tuo drink a colazione Altri suggerimenti per perdere peso in modo efficace Pratico un'attività fisica regolare Resta idratato, non saltare i pasti, controlla l'apporto calorico giornaliero e concediti il tempo necessario per perdere i chili in più Avvertenze Il consumo di caffè non è raccomandato per le donne in gravidanza Un eccesso di caffè può causare difficoltà respiratorie, insonnia, stress e ansia a costanti palpitazioni Il consumo di cannella invece può essere pericoloso per le persone con insufficienza renale o epatica Il consumo di cannella invece può essere pericoloso per le donne in gravidanza E' un'attività che può essere pericoloso per le donne in gravidanza Grazie a tutti